eccoci qua ragazzi la manomissione ha funzionato sei cosciente e in libertà dunque sono oracolo ti faremo uscire da questa nave cerca una porta per uscire allora vediamo la nave ha scoperto che sei in fuga fai attenzione cautela rilevo attività nella rete si stanno radunando dietro quella porta eh falli entrare tanto ci siamo già pronti si prendere posizione si stanno si stanno si stanno si stanno si stanno Vediamo con la super velocità Raccogli dei rinforzi Io battuglierò nei prezzi dell'area prigionieri E' bello questo Sistemi danneggiati Sistemi danneggiati A tutte le unità Il soggetto non si trova più nei corridoi principali Scandagliate l'intera nave Continuare a... Fai attenzione non farti scoprire Ok E' armatura mia All'armatura c'ho già Magna Sesta 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 Mamma mia Sesta non lo sia avanzata Troppo bene Sesta Sfrigati La nave sta inviando altre guardie contro di te Sesta 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 più avanti c'è una rete di massima sicurezza e 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 attività umana rilevata nelle vicinanze e attacco al nemico e ordinate obiettivo trasferite e andiamo battevi sotto obiettivo in vista inizio combattimento i danni al vascello continuano a crescere distruggere immediatamente le vaso obiettivo in vista danno subito attacco al nemico attacco al nemico inizio combattimento bersaglio bloccato nuova abilità vediamo super velocità vediamo vediamo no le almi vediamo posizione nemico ok facciamo qua ok ok facciamo qua facciamo qua ok facciamo qua ok facciamo qua facciamo qua facciamo qua facciamo qua facciamo qua facciamo qua la No, no, no. Che stai facendolo qui? A quel punto potremmo salire a bordo e girare un po' da lì. Caricamento. Sovraccarico. Colpire. Caricamento. Sovraccarico. Colpire. Riparazione. Non lasciate che il prigioniero raggiunga la stanza di controllo principale delle armi. Danneggiare gli accoppiatori di potenza destabilizzerà la nave. Bella questa. Non è essere umano. Non puoi fermare la conversione. Cerca i supporti che assicurano il canone. Distruggi qualsiasi cosa lo colleghi alla nave. Afforbitore distrutto. Stabilità al 75%. Stabilità ora al 50%. Sì, il cannone sta cadendo e sta per schiantarsi sull'imbottigliamento di Brainiac sottostante. Ti piegherai. Stabilità al 50%. Sì, il cannone sta cadendo e sta per schiantarsi sull'imbottigliamento di Brainiac sottostante. Riduzione. Patrenza! Superman, preparati. Ti porto dentro. Fondo essere umano, questa è la tua fine. Cadrai insieme alla nave. Ripensaci, Brainiac. Non riuscirai ad eliminare entrambi. Non ce ne andremo finché non avremo distrutto questa nave. per sempre. Superman, vai Superman. Non serve la vista a raggi X per capire che non stai facendo niente di nuovo. Non puoi o forti al volere di Brainiac. Parla di ora o morirai. Corra appena. Corra appena. Vediamo. La nave raccolta 7-0 è stata comprometta. La nave è stata comprometta. Tutte le unità devono evacuare. La nave raccolta 7-0 è stata comprometta. Li ho riprogrammati. Ora puoi fuggire. Vai! Siamo stati travolti dai suoi attacchi. Ma solo gli dèi possono creare o distruggere i mondi. E Brainiac non è un dèi. Ma solo un mostro. Ora, grazie al coraggio di un singolo uomo, abbiamo un esercito di eroi per affrontare Brainiac. Insieme ci batteremo contro la tirannia, contro Brainiac o qualsiasi altro falso. Come Wonder Woman, solo ognuno ha un proprio desiderio. E per questi eroi, è la chiamata alla grandezza. Ok. Andiamo. Ragazzi, non so voi, ma questo gioco mi piace troppo. Sono felice che sia riuscito a scappare da quella nave di Brainiac. Ti ho teletrasportato qui alla stazione del quinto distretto della polizia di Metropolis a Chinatown. Troverai altre stazioni come questa a Metropolis e Gotham, che fungono da rifugi per i nostri eroi. Offrono tutto ciò di cui avrai bisogno, venditori inclusi. Vediamo di individuarli. Su, abbiamo ancora molto di cui parlare. Troppo bello il gioco, ragazzi. Non so voi, ma... Guardate qua. Mamma mia. Quello è che è un vittura, Paola. Bello. Vediamo qua che c'è. Strepitoso! Questi sono i venditori e questo è il luogo ideale per riparare l'attrezzatura, venderla e mettersi in contatto con le varie fazioni. Alcuni venditori offrono articoli speciali che sono introvabili altrove. Quindi assicurati di guadagnare la fiducia delle rispettive fazioni. Wow, grazie. Bello. Mamma mia, quanto è veloce, ragazzi. Benvenuto nella stanza della posta. Qui puoi trovare le cassette della posta, il teletrasporto della torre di guardia, i reclutatori per pvp e allarmi. Già che siamo in argomento di posta, ti ho mandato qualcosa. Dacci un'occhiata e poi vai a parlare con il custode della luce Ambrose qui alla stazione. Ha delle informazioni sul tuo prossimo incarico. Grazie tanto, Oracolo. Comunque ragazzi, da qui, Tony Rosa Nero, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Grazie.